Ciao ragazzi, purtroppo crea sempre un grande vuoto e una grande tristezza quando ad andarsene è un musicista del calibro di Neil Peart, storico batterista dei Rush, morto all'età di 67 anni dopo aver sofferto di una grave malattia. Neil Peart non soltanto è stato lo storico batterista dei Rush, bensì uno dei più grandi batteristi della storia del rock, considerato tale da critica e pubblico all'unanimità. Sin dagli esordi, cioè dal lontano 1974, quando Neil ha iniziato a far parte della band canadese dei Rush, i quali sono stati gli inventori appunto del hard prog, ha dimostrato un approccio stilistico tutto suo e particolare alla batteria ed è sempre stato avvezzo appunto all'evoluzione del proprio stile. È diventato famoso per i suoi lunghi, estraordinari, a soli, mozzafiato in concerto, nei quali suonava tempi dispari, con dei pattern particolari, contrattempi, tempi sincopati e sfoggiando un'incredibile, diciamo, indipendenza tra tra mani e gambe. Addirittura durante gli anni 80 ha cambiato il proprio drum kit utilizzando appunto anche la batteria elettronica, ma comunque parte ecco del proprio drum kit elettronico, utilizzando addirittura dei suoni campionati di tipo tribale, improvvisandoci sopra, insomma ecco un artista tutto tondo, ecco nel vero senso della parola. All'inizio i Rush facevano parte di quella categoria di Hard Rock Blues, appunto nel primo lustro del 70 e si sono approcciati al rock progressivo più tardi rispetto ad altri gruppi, ai maggiori esponenti del rock progressive. Ciò nonostante sono stati, si può dire, non solo i precursori, ma proprio gli inventori di questo tipo di rock progressivo a tinte hard e quindi sono stati fonte di ispirazione per i gruppi Hard Rock degli anni 80 contemporanei, che sono venuti comunque dopo, ma che comunque sono stati influenzati ed hanno collaborato appunto con i Rush ad espandere, appunto a far conoscere al mondo questo genere, l'hard prog. Quindi loro, i Dream Theater, hanno preso ispirazione appunto dai Rush, nonché i Tool, i Symphony X, altri gruppi non propriamente hard prog come gli Smashing Pumpkins, Anthrax, ecco questo tipo di varietà di genere musicali. In effetti produrre una musica progressiva come semplice trio non è cosa da tutti e ogni singolo componente del gruppo, Alex Lifeson alla chitarra, Geddy Lee, il grandissimo Geddy Lee appunto al basso e voce, con la sua voce dalle ottave irraggiungibili, è appunto il grandissimo Neil Peart alla batteria. Ecco, ciascuno d'essi è uno strumentista eccezionale, impeccabile. Personalmente, devo essere onesto, non sono mai stato un grande fan o particolarmente attaccato diciamo al gruppo, però devo riconoscere che a livello strumentale, ma anche compositivo, i Rush sono stati un gruppo veramente di grande influenza, di grande impatto, è un gruppo che rimarrà nella storia. Adesso dopo la ripartita, ripartita purtroppo per cause che sono fuori dal nostro controllo, di Neil Peart, non si sa che cosa faranno i Rush, se faranno forse un concerto per ricordare il loro grande, non solo collega, bensì amico, se lo sostituiranno con qualcun altro, anche se è difficile sostituire uno strumentista del genere, di una caratura tale. Quindi ecco, vedremo quale sarà la storia del gruppo. Ci piace ricordare le grandi persone per quello che sono state e quindi concentriamoci sul grande contributo musicale che Neil Peart ha potuto dare, non solo alla batteria, bensì essendo anche parte attiva, molto attiva appunto nella costruzione dei brani, nella fase compositiva, soprattutto liricistica, quindi nelle parole, nella stesura dei testi. Ecco, tutto qua. Quindi vedremo che cosa accadrà, nel frattempo diciamo che è un gruppo di Rush che non si è fatto mancare niente, quindi moltissimi premi, riconoscimenti, molti dischi d'oro, di platino e grandissima, grandissima influenza, una grandissima influenza nei gruppi che sono venuti dopo. Ecco, quindi ragazzi, so che non è semplice parlare di questo argomento, però ecco, la musica va avanti e il ricordo di Neil Peart rimarrà per sempre. Ciao ragazzi!